Terza corsa, discreti quattro anni per questa condizionata. Sono in sette al viado per il ritiro del numero 3. Second top, scende alla corda davanti a Bacio di Luna che si mette subito nella sua scia. Poi è partito bene dalla seconda fila Bampit Off West che cerca di scavalcare Brisco Lamattli. Manovra che però non riesce a Maurizio Visco perché serrà sotto l'allievo di Luca Lovera. Intanto 200 metri in 15.2. Rimane di fuori scoperto Bampit Off West, il quale non è riuscito la mossa di andare terza alla corda. La sua schiena è presa da Borg Griff, poi Bamako dei Grippi e Brunita Caff che si ricongiunge. 400 in 38. In vantaggio back on top Vincenzo Piscoglio con questo allievo di Olga Relert, un figlio di Exploit Caff che conduce. Al suo esterno si è adeguato Bampit Off West nella posizione peggiore. 600 metri in 47. 16.2 la frazione. Passaggio davanti alle tribune. Back on top Bampit Off West. Poi Bacio di Luna affiancato da Borg Griff. L'altra pariglia Brisco Lamattli con allargo Bamako dei Grippi e Brunita Caff. Giro in 1.1.7, 14.7 qui davanti alle tribune con Back on top in controllo su Bacio di Luna, Bampit Off West, poi Brisco Lamattli che stenta un po' a tenere il ritmo chilometro che va via in 1.16.4. Ora Bampit Off West si può mettere terzo mentre avanza deciso Borg Griff ma i primi due sono ancora belli tonici e con un buon vantaggio. Back on top percorre la retta di là in 14.1, Bacio di Luna si sta preparando per l'attacco, poi Borg Griff. Siamo a metà dell'ultima curva, si affaccia all'esterno l'allievo di Antonio Greppi ma Back on top è ancora al comando. L'ultima curva viene ora passata in 14.4, retta d'arrivo, Back on top si deve difendere da Bacio di Luna che lo attacca. Ultimi 50 metri, Back on top cerca di resistere, Bacio di Luna arriva fresco sul palo. Vicinissimi due, poi Borg Griff e Brunita Caff sono veramente vicini, è davvero difficile sbilanciarsi. 1.14.2 il tempo al chilometro, da rivedere questo arrivo perché Bacio di Luna ha coperto completamente l'avversario. Però faccio veramente fatica a sbilanciarmi, cerchiamo di rivedere Bacio di Luna che probabilmente è riuscito a mettere qualcosina davanti. Ci rivediamo, sì, è la classica stampata sul palo. Bacio di Luna viene a vincere con Antonio Greppi e treni di Klaus Holman per la scureria Maydem 92. Dopo essere stato in schiena al battistrada Back on top che le ha provate tutte, Vincenzo Piscoglio, ma è stato proprio battuto sul palo. Ci ha provato, rivediamo il bel arrivo tra Back on top e Bacio di Luna che brucia l'avversario, mentre al terzo Borg Griff. Grazie a tutti.